Dovranno rispondere al giudice dell'accusa di corruzione elettorale. Il presidente del Consiglio regionale, il forzista Lorenzo Sospiri, e l'ex consigliere regionale del PD e sindaco di Rosello, Alessio Monaco, sono stati rinviati a giudizio per citazione diretta del PM Andrea Di Giovanni, saltando la fase del CUP. Il 6 luglio, davanti al Tribunale monocratico di Pescara, dovranno chiarire la loro posizione nell'inchiesta sul presunto voto di scambio. Secondo l'accusa, benché due fossero candidati con due schieramenti opposti alle scorse elezioni regionali, uno con Forza Italia e l'altro con Pio Abruzzo, avrebbero chiesto voti alla stessa persona, l'ex medico e consigliere comunale dell'Udc a Pescara, Vincenzo Dogali. Sospiri, in cambio di un bacino di preferenze, avrebbe promesso un incarico a Dogali, promessa che, come accertato dalla procura, non è stata mantenuta. Monaco, invece, avrebbe portato all'ex medico direttamente 200 euro da consegnare agli infermieri affinché questi facessero campagna elettorale nei corridoi dell'ospedale. Alle elezioni, poi, Sospiri fu rieletto e divenne presidente del Consiglio, mentre Monaco non ricevette abbastanza voti da accedere all'emiciclo. L'inchiesta è scaturita da quella per esercizio abusivo della professione e peculato, in cui è coinvolto Dogali, il quale avrebbe continuato a indossare il camice anche dopo il pensionamento del 2015. Sono fiducioso di poter fare chiarezza su una vicenda sicuramente sgradevole, ha commentato Sospiri. Non è stato promesso alcun incarico, quale contropartita, per una presunta cessione di voti e, infatti, ha detto il forzista a proposito delle intercettazioni, dalle frasi non si evince alcuna promessa.